Il conflitto in Medio Oriente è ancora in stallo, le trattative per un cessate il fuoco. La politica alle prese con la marcia dei trattori, la protesta torna a Roma, agricoltori, oggi al Circo Massimo, intanto ok del Senato all'accordo Italia-Albania. In Serbia scoperto un arco di trionfo romano, un team di archeologi lo ha rinvenuto a 70 km da Belgrado. Buongiorno dal TG2000, in apertura il Medio Oriente è ancora senza pace, saltano i colloqui per una tregua, intanto è botta in risposta tra il Vaticano e l'ambasciata di Israele, presso la Santa Sede. Massimiliano Cocchi. L'ambulanza è crivellata di colpi a un paramedico ferito, sono le immagini diffuse dalla mezzaluna rossa per denunciare gli attacchi israeliani contro medici e strutture sanitarie. Quest'ambulanza in particolare è stata colpita mentre stava trasportando bombole di ossigeno. Martedì scorso invece un carro armato israeliano ha distrutto l'ingresso dell'ospedale Al-Nasera Khan Yunis, uccidendo una donna. Al personale è stato poi ordinato di evacuare la struttura. All'interno è rimasta un'equipe di medici senza frontiere che continua a curare i pazienti in condizioni quasi impossibili. Ma i timori in queste ore sono per l'operazione di terra che l'esercito israeliano sta per lanciare a Rafa, in un'area dove, come ordinato da Israele, hanno cercato rifugio un milione e mezzo di sfollati. La guerra qui avrebbe conseguenze catastrofiche. Per questo al Cairo, nonostante il ritiro della delegazione israeliana, i mediatori continuano a trattare per una tregua. 24 ore fa si registravano segnali positivi e l'accordo sembrava vicino. Poi, improvvisa, è arrivata la rottura e la trattativa è di nuovo tutta in salita. Si complica la situazione anche sul fronte nord, quello con il Libano. Dopo i missili sparati dagli Esbolla che hanno ucciso una soldatessa e ferito altri otto militari, i cacci israeliani hanno risposto con pesanti bombardamenti che hanno ucciso 13 persone. Questa mattina, molte strade che dall'Alta Galilea portano verso il confine, sono state chiuse dall'esercito per motivi di sicurezza. Sul fronte diplomatico, il Vaticano prova a mettere fine i contrasti con lo Stato ebraico. L'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede aveva definito deplorevoli le parole del segretario di Stato, il cardinale Parolin, secondo cui la risposta all'attacco di Hamas non è proporzionata. In un editoriale, apparso sull'osservatore romano, si afferma che per la Santa Sede la scelta di campo è sempre quella per le vittime e che nessuno può definire quanto sta accadendo nella striscia un danno collaterale della lotta al terrorismo. E anche in Ucraina si combatte all'arma aereo in tutto il paese. Secondo fonti USA, Mosca sarebbe pronta alla guerra antisatellite nello spazio. Letizia Davoli. A due anni dalle prime bombe russe non si arrestano gli attacchi con cui Putin cerca di mettere in ginocchio non solo l'esercito ma anche la resistenza del popolo ucraino, che ogni notte all'arrivo del buio sa che deve affrontare ore e ore di terrore sotto una pioggia di missili. 26 quelli lanciati stanotte, 13, sono stati abbattuti dalla contraerea, inclusi tutti quelli destinati alla capitale Kiev. Ma sono state tante le regioni prese di mira fino al confine con la Polonia, numerose le persone ferite a Leopoli, Zaporizia e Poltava, quattro morti a Kharkiv. L'Ucraina intanto ha deciso di rinforzare il fronte orientale dove la situazione viene descritta dallo stesso comando come estremamente critica. Sul fronte del sostegno internazionale, i ministri della difesa riuniti a Bruxelles per la ministeriale NATO hanno serrato le fila di fronte agli attacchi di Trump, mentre il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha ricordato che l'articolo 5 dell'Alleanza sulla difesa collettiva e il nucleo centrale dell'associazione deve essere applicato a tutti i suoi alleati. Zelensky intanto è atteso in visita a Berlino e Parigi, mentre sponde il giallo sull'allarme lanciato dal New York Times, secondo cui ci sarebbe una seria minaccia alla sicurezza nazionale, rivelata sorpresa dal capo della Commissione Intelligence della Camera americana, Turner. Turner, stando quanto riferito dai media, avrebbe avvisato alla Camera e gli alleati europei che la Russia starebbe tentando di sviluppare un'arma nucleare antisatellite da posizionare nello spazio, con l'apparente scopo di colpire non obiettivi terrestri, ma le reti di satelliti degli Stati Uniti e di altri paesi considerati nemici di Mosca. E negli Stati Uniti, dopo la sparatoria a Kansas City, il presidente Biden torna a chiedere al Congresso di agire contro la violenza delle armi da fuoco. Alessio Arlandi. Il rumore improvviso dei colpi di pistola, il panico tra la folla che scappa, la festa che si trasforma in tragedia. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta a Kansas City, in Missouri, durante la parata, a cui partecipavano almeno un milione di persone, per celebrare la vittoria dei Chief al Super Bowl. Una donna, conduttrice di una radio locale, colpita all'addome, è rimasta a terra, uccisa. Altre 22 le persone ferite, di cui 8 in modo grave, tra loro anche 12 bambini. Alcuni spettatori vengono soccorsi sul posto, quelli in condizioni più serie, portati subito in ospedale. Tre uomini sono stati fermati dalla polizia, che sta ora cercando di risalire al movente della sparatoria. Le indagini puntano verso un atto di natura criminale e non terrorismo. Si parla di un incidente legato alle gang locali, ma nessuna ipotesi viene scartata dagli inquirenti. Al momento degli spari, i giocatori di football erano ancora sul palco, ma nessuno di loro o personale dello staff della squadra è rimasto coinvolto. Questa di Kansas City è la 48esima sparatoria di massa negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno. Basta la violenza delle armi, l'ennesimo appello del presidente Biden che torna a chiedere al congresso americano una legge che limiti il possesso di pistole e fucili. Restiamo all'estero. Il Giappone scivola in recessione, scende al quarto posto nella classifica delle maggiori economie mondiali. Al terzo posto sale la Germania, dietro a Stati Uniti e Cina. Allo scorso anno l'economia nipponica aveva registrato una crescita dell'1,9%. Ed ancora di economia si è parlato stamattina a Bruxelles durante l'audizione di Christine Lagarde, la presidente della BCE, che ha parlato di pil debole nell'eurozona di inflazione dei 25 anni dell'euro, sottolineandone il percorso positivo. Siamo alla politica. Dopo l'esame delle commissioni, il decreto mille proroghe approda alla Camera, intanto riparte la protesta dei trattori. Augusto Cantelmi. Ed è approdato in aula alla Camera il decreto mille proroghe. Lunedì il voto di fiducia apposto dal Governo. Tra le misure la proroga per tutto il 2024 dello scudo penale per i medici e sempre per i medici del Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di restare al lavoro fino a 72 anni. Prevista l'esenzione totale dell'IRPEF per gli agricoltori fino a 10.000 euro di reddito e parziale per quelli tra i 10.000 e i 15.000. provvedimenti questi al centro della lunga trattativa con il leader dei trattori. Movimento che si è di fatto diviso. Una parte ha fermato la protesta, un'altra invece la continua. Oggi manifestazione a Campidoglio al Circo Massimo, dove sarà presente anche una delegazione della Lega. Un modo per evidenziare le distanze con Fratelli d'Italia tra i due partiti. Attenzione anche per quanto riguarda il terzo mandato per sindaci e governatori. Il carroccio insiste soprattutto per poter candidare il presidente uscente Zaya in Veneto. Stesso discorso per il PD con De Luca, Bonaccini ed Emiliano. Bagarre in auli invece alla Camera per il via libera definitiva l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid con Conte Speranza attaccati dalla maggioranza. E al Senato è stato approvato definitivamente il disegno di leggi di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per la collaborazione in materia migratoria. La cronaca ci porta a Cisterna di Latina e al finanziere che ha confessato il duplice omicidio della madre e della sorella della fidanzata Barbara Masulli. Lo ha ammesso al momento dell'arresto, poi lo ha ribadito nel lungo interrogatorio di ieri sera in questura. Cristian Sodano, finanziere di 26 anni e originario di Formia, martedì pomeriggio ha litigato con Desiree Amato nella billetta di lei a Cisterna di Latina dove avevano dormito insieme la notte precedente e al culmine della discussione ha impugnato l'arma di ordinanza. La ragazza si è spaventata, si è nascosta prima in bagno, poi nella camera della sorella. Lui nel frattempo ha sparato contro la madre di Desiree, Nicoletta Zomparelli e la sorella René che erano in casa ed erano intervenute allarmate dalle urla. Sempre nel corso dell'interrogatorio Sodano ha anche detto di aver esploso altri due colpi di pistola contro la sorella perché non era ancora morta. Non volevo farla soffrire, avrebbe detto agli inquirenti. Nel frattempo Desiree era riuscita a fuggire e a chiamare le forze dell'ordine che l'hanno trovata in stato di shock. L'assassino si è diretto verso casa di uno zio a Latina dove è stato arrestato. Il rapporto fra i due ragazzi era al capolinea. Lei aveva rifiutato di andare a convivere e Sodano non accettava questa decisione. Il 26enne ora in carcere con le accuse di duplice omicidio e tentato omicidio in attesa dell'udienza di convalida che si terrà a breve. Dolore e preghiera per le vittime e le parole del vescovo di Latina Mariano Cruciata che ha sottolineato lo sgomento e l'impotenza di fronte a un simile gesto amare e dare vita, non toglierla, ha detto. Ed ancora cronaca con l'operazione Game Over della Polizia di Stato che ha confiscato oggi beni e società per un valore di 4 milioni e mezzo di euro. Il sequestro ha colpito un clan criminale attivo dal 2012 nel territorio sud di Roma fino ai comuni di Pomezia, Torvajenica, Ardea, Anzio, Aprilia e Nettuno. L'operazione segue quella denominata All In, condotta nel novembre scorso dalla squadra mobile che ha portato all'arresto e al fermo di 30 persone, indagate tra l'altro di associazione finalizzata al traffico di droga, tentato omicidio e autoriciclaggio. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della giornata per la lotta al cancro infantile. Caterina, dall'Olio. In Italia si ammalano di tumore circa 1.500 bambini all'anno tra gli 0 e 14 anni, oltre a 900 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Attualmente la probabilità di guarigione a 5 anni dalla fine delle terapie è oltre l'80%. Questi successi terapeutici sono stati ottenuti con percentuali differenti a seconda del tipo di tumore, per esempio con un'incidenza molto migliore per l'eucemia linfoblastica acuta e l'infoma di Oshkin. Sono i dati resi pubblici dal Ministero della Salute in occasione della giornata internazionale contro il cancro infantile. Le nuove tecniche diagnostiche, i nuovi protocolli terapeutici, così come la ricerca di base traslazionale e clinica, hanno permesso un grande miglioramento delle probabilità di guarigione. E non solo questo, ma anche della qualità di vita, sia durante che dopo i trattamenti che questi bambini ricevono. Oggi l'avvento di una medicina sempre più personalizzata è una realtà a cui possono accedere anche i pazienti pediatrici e che viene utilizzata in tutti i centri di cura. Il sostegno psicologico ai pazienti oncologici pediatrici è fondamentale, in quanto la complessità della diagnosi e del processo di cura coinvolge il bambino come l'intera famiglia. L'oncologia pediatrica infatti fin dal primo momento si è posto al problema del sostegno del bambino che va dalla comprensione della malattia all'accettazione della cura, secondo la varietà delle acquisizioni neuropsicologiche delle varie età infantili. Fortunatamente in Italia oggi vivono quasi 50.000 persone guarite da tumori in età pediatrica, numero in progressivo aumento. Ogni anno infatti si aggiungono circa 1.200 persone in più. Da oggi al via il Festival di Berlino con l'Italia protagonista. Ancora una volta un concorso coraggioso. Si contenderanno l'Orso d'Oro, 20 film, tra cui spiccano due presenze italiane. La prima è il ritorno di Piero Messina con Another Hand e poi il primo film da regista di Margherita Vicario con Gloria. Il 14 febbraio del 1944, il bombardamento di Monte Cassino, gli alleati anglo-americani convinti che l'abbazia fosse occupata dai tedeschi condussero un'azione di guerra scellerata che portò alla distruzione totale di uno dei più antichi monasteri d'Italia. È del passato che ritorna trovato in Serbia, 70 km da Belgrado, un arco di trionfo romano. Raffaella Frullone. Sfidando il freddo pungente e il vento, in Serbia un gruppo di archeologi spezziona il sito di un antico arco di trionfo romano, uno dei pochi nei Balcani, risalente al III secolo. È stato scoperto a dicembre nel sito di Viminaccio, un vicino alla città di Costolac, 70 km a est di Belgrado, e ora è tempo di raccontarlo. Miomir Korak, direttore dell'Istituto di Archeologia di Belgrado, spiega che si tratta del primo arco di trionfo di questo tipo in quest'area e che potrebbe risalire ai primi decenni del III secolo d.C. Tra il I e il IV secolo, Viminacium era stata una città romana di 45.000 abitanti, con un ippodromo, fortificazioni, un foro, un palazzo, templi, un anfiteatro, acque dotti, terme e officine. Ilia Dankovic, assistente di ricerca dell'Istituto, racconta che in questa zona c'erano edifici risalenti al II secolo e che questo era un quartiere residenziale d'elite. Rivela inoltre che per scoprirlo hanno studiato le usanze e le abitudini degli abitanti della zona, testimoniate dalle ceramiche importate, dalle anfore di rodi utilizzate per il trasporto del vino e dalle anfore provenienti dal Mar Nero. La speranza degli studiosi ora è quella di trovare altri pezzi oltre a tegole d'oro, monete, sculture di giada, oggetti religiosi, mosaici e affreschi. Noi ci fermiamo qui, vi lascio a terza pagina l'appuntamento con il TG2000, torna alle 14.55. Buona giornata a tutti. Scultore, orafo, musico e scrittore, autore di una delle più celebri e avvincenti autobiografie della storia dell'arte. Benvenuto Cellini rappresenta il volto più controverso e sofferto di tutti il Rinascimento, forse più ancora di quella di Caravaggio, la sua esistenza è stata segnata dalla violenza, dal crimine e dalla provocazione. Era nato a Firenze nel 1501, Benvenuto Cellini. Suo padre Giovanni era un musico. In questo libro che racconta la vita di Benvenuto Cellini, la prima grande autobiografia di un artista moderno che viene riproposta in questa forma romanzata. Il protagonista di questo racconto è capace di grandi imprese e di atti eroici, come la coraggiosa difesa di Roma dalle mura di Castel Sant'Angelo durante il sacco del 1527, ma anche di memorabili scontri con i pontifici Clemente VII e Paolo III, che pur non risparmiando riconoscimenti al suo genio, gli procurarono sofferenze e delusioni. Cellini invece, come dicevo, prenderà la via dell'arte. Comincerà la sua vita scellerata con i primi omicidi, con le prime risse e i primi allontanamenti da Firenze. Incarcerato nelle segrete della mole Adriana e liberato grazie all'intervento del re di Francia, Benvenuto Cellini conobbe onori e gloria con la realizzazione di capolavori come la saliera di Francesco I, oggi nel Museo Storico di Vienna, o successivamente con la straordinaria impresa della fusione in bronzo del Perseo, realizzato a Firenze per il duca Cosimo I dei Medici. E Cellini stesso che ci racconta l'avventura di fondere un'opera alta più di due metri in un pezzo unico, cosa che non si farà più dall'antichità. Ossia, le ultime grandi fusioni abbiamo avuto con i greci e con i romani. Alessandro Masi, attraverso le parole dell'orafo fiorentino, ripercorre le incredibili gesta di un uomo privo di scrupoli, assassino e ladro all'occorrenza, una vita maledetta, insospettabile e al contempo modernissima. Arriva in libreria una nuova storia dei valdesi in occasione dell'ottocentocinquantesimo anniversario della nascita del movimento, avviato nel 1174 ad opera del predicatore Valdo, che auspicando una rinascita spirituale propugnava il ritorno a un cristianesimo delle origini, puntando sulla messa in comune dei beni, sulla predicazione da parte dei laici e delle donne e la lettura individuale della Bibbia, tutti aspetti considerati all'epoca inaccettabili dalla Chiesa Cattolica. Si tratta di quattro volumi, editi da Claudiana e suddivisi cronologicamente per raccontare gli 850 anni della storia valdese, dalla nascita all'adesione alla riforma protestante, dalle persecuzioni alle concessioni dei diritti civili, fino alla piena cittadinanza nell'Italia postunitaria. Il tutto grazie al lavoro di un centinaio di storici solo in minoranza di estrazione valdese. Per ora sono previsti i primi due volumi dedicati rispettivamente al periodo della riforma e al Novecento, ma nel mese di marzo l'impresa sarà portata a termine, andando a comprendere il Medioevo e il periodo risorgimentale fino al 1870. Grazie a tutti i primi due volumi,